Buongiorno a tutti, sono passati cinque anni dal precedente incontro Science and Future e giustamente come il professor Tartaglia ha appena detto, sul piano della consapevolezza di questi temi è cambiato veramente poco, per non dire nulla, è cambiato in una nicchia di persone, questo sicuramente avviene, ma la nicchia non è in grado di stimolare cambiamenti di massa e anche la parte, se vogliamo così, di punta intellettuale dell'informazione del Paese, parlo in questo momento di Italia, lo dimostra anche questa mattina con un editoriale di Ezio Mauro, una delle firme comunque più autorevoli del nostro panorama intellettuale che su Repubblica inneggia già nel titolo a quattro parole chiave che sono completamente prive di significato se lo confrontiamo con quello che abbiamo appena visto, crescita, sviluppo, progresso, investimenti. Ecco io vorrei che riuscissimo a spiegare alle persone come Ezio Mauro, che sono comunque persone colte e intelligenti, la legge di Ohm, l'effetto Joule, dovremmo spiegare che cos'è la curva logistica, dovremmo spiegare quali sono i limiti fisici dei sistemi naturali. Questi signori vivono in un bozzolo, assolutamente privoli di legami con il mondo reale. Questo è possibile perché se uno per il momento si sveglia al mattino in un appartamento dove ci sono tutte le comodità, dove si sale sull'automobile magari con un autista e si viene portati nella propria redazione, dove tutto funziona perché qualcos'altro di molto lontano nel mondo fa sì che funzioni. Arriva il gas per accendere la caldaia e tenersi caldi, arriva la corrente per azionare il computer, la benzina per l'automobile. Si torna a casa la sera sostanzialmente ogni giorno reiterando questi gesti. È ovvio che uno scriva così, perché tutto funziona nel migliore dei mondi possibili, limitatamente a questa piccola parte di mondo, di cui uno ignora quali siano però le conseguenze spalmate altrove. Potremmo dire l'entropia liberata in un serbatoio che è il pianeta da questo genere di vita. Allora se non hai coscienza di dov'è il pozzo dell'entropia tutto va bene e si può continuare a crescere. Ma se appena ti rendi conto di quello che succede per avere questo tipo di stile di vita tranquillo, apparentemente ordinato, allora ci si renderebbe conto che è tutto molto più fragile e che soprattutto non è in grado di durare a lungo quando sottoposto a una richiesta di crescita materiale continua. Molte cose invece sono cambiate in cinque anni proprio se andiamo a vedere il serbatoio dell'entropia e andiamo a vedere quindi che cosa è stato scaricato nell'ambiente esterno tant'è che in questi cinque anni vi parlo solo di fatti accaduti dopo il 2013 e sostanzialmente è stata sancita la nomenclatura del nuova epoca geologica nella quale viviamo. L'antropocene che prima era una proposta dopo il congresso internazionale dei geologi a Città del Capo nell'autunno e alla fine agosto del 2016 è sostanzialmente accettata. Non è ancora deciso quale sia la data ufficiale d'inizio, se la rivoluzione industriale, se il 1945 come momento nel quale l'umanità ha inventato la fissione nucleare e l'ha fatta realizzare con i primi ordini atomici. Comunque poco importa. L'antropocene di fatto è la nuova epoca geologica dove l'uomo lascia tracce indelebili nei processi naturali del pianeta che si ritroveranno ancora a centinaia di migliaia o milioni di anni dopo la nostra presenza. Se noi dovessimo scomparire domani le tracce dell'antropocene le vedremo ancora così come oggi troviamo le tracce fossili di periodi precedenti, di vita precedente. La differenza è che per le vite precedenti noi troviamo sostanzialmente delle ossa o dei residui organici come il carbone, il petrolio. Sono tracce di vita precedente. Per quello che abbiamo fatto noi troveremo invece tracce anche nuove artificiali. Per esempio tutti i 140.000 composti chimici circa che abbiamo ideato e sparsi nell'ambiente alcuni dei quali tossici, persistenti. Troveremo monitor di computer e copertoni di camion nei sedimenti geologici. I limiti fisici del sistema, quel soffitto che Angelo Tartaglia ha simboleggiato con una linea rossa orizzontale. Qui per praticità questa linea viene semplicemente chiusa su se stessa a formare una circonferenza. È la circonferenza azzurra che vedete nel centro dei planetary boundaries di Johan Rockström e colleghi già pubblicati su Nature nel 2009 ma tuttora ignoti ai più e ignorati. I limiti fisici del sistema sostanzialmente sono nove di cui alcuni sono già completamente al di fuori della linea di sicurezza e sono i colori rossi e gialli e vedete che c'è il cambiamento climatico che è già irreversibile giallo, la perdita di biodiversità con la sesta estinzione di massa che addirittura è già in un'area rossa quindi di estrema irreversibilità, di alto rischio di estrema irreversibilità. L'uso dei suoli vediamo e deforestazione e cementificazione già nel settore giallo e poi abbiamo i cicli del fosforo e dell'azoto. Gli altri settori sono prossimi a superare la linea azzurra quindi rischiamo tra un po' di avere molti problemi in più. Ci sono anche alcuni settori che non hanno, che sono ombreggiati in chiaro e come vedete novel entities sono sostanzialmente problemi legati all'inquinamento che non riusciamo nemmeno a misurare. C'era un solo settore tra quelli che fondamentalmente erano stati messi sotto controllo tra i limiti planetari ed era il buco nell'ozono. Il buco dell'ozono infatti è indicato, lo vedete, con un'area verde ma è sotto controllo, non stava crescendo fino a qualche tempo fa grazie a un'azione umana. Era stato provocato da un'azione umana la liberazione in atmosfera dei clorofluorocarburi, gas persistenti, frigorigeni e propellenti di bombolette spray per i quali un premio Nobel per la chimica, Mario Molina e collaboratori e Paul Kruzen, l'inventore del termine antropocene, hanno avvertito negli anni 70-80 l'umanità che avremmo rischiato grosso depauperando l'intero stato di ozono che lascia poi passare radiazione ultravioletta nociva alla vita. E il protocollo di Montreal nel 1987 ha effettivamente arginato la produzione di questi composti, la produzione ufficiale, perché pochi mesi fa è arrivata la notizia che gli osservatori della composizione chimica dell'atmosfera hanno rilevato fonti clandestine di clorofluorocarburi vietati dal protocollo di Montreal. Quindi c'è qualcuno nel mondo, probabilmente in Asia, che sta continuando a produrre i clorofluorocarburi vietati. Quindi nemmeno quando si è riusciti a siglare un protocollo accettato formalmente poi si ha la certezza che questo venga rispettato in maniera legittima. In questo caso ci sono delle produzioni illegittime. Questi allarmi continuano a risuonare fortemente nell'ambiente scientifico al punto che nel 2017 l'iniziativa di un docente di ecologia dell'Università dell'Oregon ha portato, grazie anche alla facilità di comunicazione con la rete, alla redazione dell'articolo probabilmente col maggior numero di autori nella storia della scienza. è un articolo breve, siglato però firmato da 15.364 autori, io sono uno di quelli. L'abbiamo firmato per dare un secondo allarme all'umanità su questi problemi. Il primo allarme quando era stato dato? Il primo allarme indipendente, primo allarme l'abbiamo detto, è sostanzialmente quello del Club di Roma con il rapporto i limiti alla crescita del 1972. Poi ci sono altri allarmi di singole strutture, di singoli scienziati, ma un allarme collettivo indipendente era già stato dato nel 1992 a Rio de Janeiro durante la grande conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente da 1700 scienziati. A 25 anni di distanza si è presa l'iniziativa di darne un secondo, molto più preoccupato, al punto che si dice se continuiamo così probabilmente non ci sarà il terzo. In questo Warning to Humanity, secondo allarme all'umanità, ci sono poi tre paginette, non c'è molto di più, ma ci sono degli indicatori che non sono quelli utilizzati da Ezio Mauro per guardare al futuro radioso della nazione e del mondo, cioè la crescita del PIL, la crescita dei consumi, la crescita della popolazione, addirittura in molti casi vista come un bene, ma sono invece gli indicatori fisici di quei parametri che se crescono fanno male e se decrescono anche. Quindi ne trovate di tutte e due, qui trovate delle curve che crescono, come per esempio la quantità di CO2 nell'atmosfera o la temperatura del pianeta o la popolazione, che sono delle quantità che se crescono ci preoccupano, e delle altre che decrescono e in questo caso ci preoccupano lo stesso, sono gli ettari di foresta tropicale che sparisce sotto l'uso che ne viene fatta come materia prima o come terreno agricolo, sono il numero di specie viventi che ovviamente si estinguono, sono le risorse di acqua disponibile per ogni persona e così via. La popolazione in questi cinque anni ha continuato a crescere, Angelo Tartaglia ci ha fatto vedere che siamo 7 miliardi e 662 milioni stimati a oggi 2018, bene, siamo 400 milioni in più rispetto a quando su questo stesso podio facevamo vedere questi stessi grafici cinque anni fa, cioè più della popolazione del Nord America si è aggiunta sul pianeta Terra, fortunatamente, e lo dico in modo cinico da occidentale, fortunatamente si è aggiunta nella parte povera del mondo e quindi abbiamo i consumi relativi a 400 milioni di persone nella parte povera. Se fossero stati 400 milioni di americani probabilmente quelle quantità fisiche che avete visto prima sarebbero ancora molto peggiorate perché il livello di consumo e di produzione di rifiuti di un americano è almeno di 4-5 volte rispetto a quella di un asiatico di paesi medio-poveri. Di questo ho già detto Tartaglia, ovviamente la quantità di energia necessaria all'umanità continua a crescere ed è prevalentemente fossile e quindi il budget naturale del capitale naturale del pianeta continua a assottigliarsi, cioè a incrementarsi assottigliando le risorse. C'è un nuovo indicatore, ancora parziale, limitato ma utile per visualizzare dove stiamo andando, che è la giornata nel quale l'umanità raggiunge il debito ecologico, il sovrassruttamento delle risorse. Se vediamo il pianeta in maniera economica come capitale e interessi, fino al 1970, anni nei quali si elaborava il rapporto sui limiti alla crescita e quindi eravamo nel momento giusto della storia dell'umanità per prenderne coscienza, perché eravamo ancora all'interno di un uso degli interessi della natura senza intaccare il capitale. Vedete che il giorno del debito ecologico cade sostanzialmente il primo gennaio. Benissimo, allora vuol dire che ho un altro anno per vivere sugli interessi senza intaccare il capitale. Nessuno ascolterà le riflessioni del rapporto sui limiti della crescita e si andrà avanti ad anticipare via via la giornata in cui l'umanità va in debito ecologico e prima diventerà novembre, poi ottobre e adesso siamo al primo di agosto. Negli ultimi anni c'è stata una stagnazione, vedete anche qui il 2009 che risente del cedimento della crisi economica ma poi si risale, siamo fondamentalmente stabili ma comunque un giorno di anticipo lo vediamo un po' tutti gli anni e adesso siamo comunque alla data più anticipata. Veniamo al clima, anche in questi anni la CO2 in annosfera è aumentata, eravamo a 400 parti per milione appena superate nel 2013 e oggi siamo attorno a 412. Vi parlo dei picchi massimi annuali perché sappiamo che la CO2 ha delle fluttuazioni dovute all'attività fotosintetica stagionale ma quello che importa è che la curva continua a crescere, questa è la curva di Keeling dal nome del geofisico americano che per primo iniziò a eseguire misure quotidiane della concentrazione di CO2 atmosferica ed è un altro dei dati che non riusciamo a far capire a Donald Trump che dice io non credo che la causa del cambiamento climatico sia di origine umana, però questi grafici sono stati fatti perfino dagli Stati Uniti, da ricercatori degli Stati Uniti, la vedete dalla Scripps Institution, sono i dati del famoso osservatorio di Mauna Loa, le isole Hawaii scelto accuratamente nel 1958 proprio per il fatto di essere isolato rispetto alle grandi città, fonti della CO2 diretta proprio per vedere come questa si diffonde sul pianeta. Oggi ce ne sono molte decine di questi punti e tutti dicono esattamente la stessa cosa. Continuiamo a metterli in una prospettiva storica di lunghissimo periodo, i dati del carotaggio epica al Polo Sud e vediamo che ormai da molto tempo siamo fuori dai limiti naturali della concentrazione di CO2 che non dovrebbe superare le 300 parti per milione, lo vedete qui, 300 ppm è il valore massimo assoluto in 800 mila anni di misure eseguite nella carota fossile della base Concordia al Polo Sud, 3270 metri di profondità di ghiaccio e vediamo che ci sono delle oscillazioni naturali che sappiamo derivano da processi astronomici, non sono colpa nostra, ma il range naturale di variazione della CO2 va da 180 ppm e qui abbiamo le glaciazioni a 300. Non siamo mai stati così levati, spesso mi sento dire ma quando sarà il punto di non ritorno? Scusa, forse ti sei perso qualcosa. Il punto di non ritorno l'abbiamo esattamente passato per quanto riguarda la CO2 attorno agli primi anni 80. Questo perché si ritiene che le inerzie di tutto il sistema, i meccanismi di feedback che possono reggere fino a una concentrazione di 350 ppm anche se il massimo storico è 300. Benissimo, tutto questo è già passato, il punto di non ritorno è ampiamente passato dal punto di vista climatico ormai più di 30 anni fa. Oggi possiamo soltanto limitare i danni e i danni li vediamo già, la febbre del pianeta è già in atto, abbiamo guadagnato un grado Celsius nell'ultimo secolo sul dato medio planetario e come vedete bene a partire dagli anni 80 la rampa di riscaldamento si è fatta particolarmente accentuata e gli ultimi 3-4 anni tutti dopo il nostro convegno che si è tenuto nel 2013 hanno continuato a mostrarci non solo un trend ma addirittura dei valori particolarmente elevati, quindi un incremento se volete della derivata del riscaldamento. Questo ha generato anche episodi catastrofici in alcune parti del mondo come un gravissimo, il più grave si ritiene, episodio di sbiancamento delle barriere coralline in Australia da quando abbiamo misure biologiche che lo possono certificare. Prendiamo Torino dove abbiamo una delle più lunghe serie storiche di dati meteorologici in Italia e al mondo e anche in questo caso abbiamo toccato nel 2015 un nuovo record, prima c'era stato il 2007, dopo il convegno del 2013 nuovo record nel 2015 ma tutti gli anni in ogni caso più caldi della storia di una lunga serie di due secoli e mezzo. Le estati sono diventate particolarmente roventi, dopo quella del 2003 che fortunatamente per ora non si è ripetuta come picco massimo, abbiamo comunque avuto ancora tutte le estati dopo il 2003 tra le più calde della storia, l'estate del 2018 appena conclusa e la quarta più calda qui a Torino, la quinta a livello nazionale italiano e in ogni caso vedete che la media mobile attesta che siamo all'interno di un vero e proprio cambiamento nell'equilibrio del sistema, mai abbiamo avuto periodi così lunghi con delle estati così calde e questo lo vediamo in molteplici situazioni della nostra quotidianità. Intanto tutti abbiamo bisogno del condizionatore d'estate che 25-30 anni fa a Torino era considerato un lusso ma anche un po' una bizzarria, inutile, un'americanata. Oggi non possiamo vivere effettivamente senza condizionatore né in casa né in automobile, ma non è un lusso gratuito, è effettivamente una necessità. Abbiamo la zanzara tigre, Edesalbopictus arriva trasportata da un cargo a Genova nel 1991, quindi qui. In questo caso le estati sono ancora abbastanza fresche da impedire la proliferazione di questo insetto originario del Vietnam, ma dopo il 2003 la zanzara tigre trova condizioni più che opportune alla sua diffusione, oggi prolifera in tutto il Mediterraneo settentrionale, fa grattare come Culex Pipiens la nostra zanzara originale e porta però delle novità a quattro malattie tropicali di cui è insetto vettore, cicungunia, febbre dengue, virus del nilo occidentale e virus zika, ponendo un nuovo problema ai servizi sanitari, in quanto durante la diffusione di uno di questi virus da parte della zanzara tigre è vietata la trasfusione di sangue o meglio la donazione di sangue per ovvi motivi. Dei dieci mesi più caldi a livello di serie storica dal 1753 vedete che questo non è affatto più un fenomeno casuale che potremmo attribuire alla normale variabilità climatica, ma un trend preciso perché sono quasi tutti successivi all'anno 2000. La siccità e il caldo del 2003 hanno avuto, sia pure leggermente inferiori come record, una reiterazione nel 2015 e nel 2017. Questi portano anche molti problemi in agricoltura e molti problemi a livello sanitario, indipendentemente dalla zanzara tigre. Vi ricordo che il 2003 produsse in Europa 70.000 morti in termini di sovramortalità. E grossomodo possiamo dire che ogni ondata di calore estiva in un paese come l'Italia porta a una sovramortalità tra le 10.000 e le 20.000 persone, normalmente nella fascia degli anziani e dei malati, quindi poco visibile ai fini della comunicazione. Inoltre i calcoli delle statistiche in genere si fanno qualche mese dopo e Ezio Mauro non lo scrive più questo perché dopo non fa più notizia. Quando i calcoli saranno pronti ormai c'è altro di cui parlare, non va in prima pagina. Abbiamo toccato nuovi record di disagio fisico da caldo. Ecco, il caldo non è bello, oltre a una certa soglia è molto fastidioso e crea un disagio fisico che porta anche a un calo di produttività nel lavoro e alle patologie di cui abbiamo detto nel caso della popolazione esposta. Ma il 6 e il 7 luglio del 2015 a Ravenna, in particolare a Cesena, a Ferrara, si sono toccati dei valori inediti anche in questo caso in termini di punto di rugiada, cioè un indicatore del caldofoso contro il quale bisogna essere estremamente attenti perché vi ricordo che la temperatura corporea è di 37 gradi. Quando la temperatura ambientale esterna supera i 37 gradi, il nostro corpo deve mettere in alto dei meccanismi fisici di dissipazione del calore e questo meccanismo è unicamente possibile attraverso l'evaporazione del sudore dalla superficie cutanea. Ma se la temperatura dell'ambiente esterno superiore a quella del corpo è associata a un'umidità elevata, l'evaporazione è impedita o altamente inefficiente. Questo porta all'impossibilità di smaltire il calore in eccesso del corpo e sappiamo bene che a 42 gradi vi è la devitalizzazione del protoplasma cellulare con morte dell'individuo. Quindi quando si hanno temperature prossime ai 40 gradi e umidità relative sopra il 50-60% il corpo va in una situazione di stress termico in cui bisogna mettere in atto delle contromisure. Per esempio rifugiarsi in un luogo con un condizionatore, se sei fortunato. Perché se hai una professione tipo asfaltare le strade o raccogliere i pomodori muori nel campo dove sei. La società non può funzionare soltanto rimanendo rifugiata in un bozzolo di aria condizionata. Oggi questo lo vediamo in territori come Dubai, come gli Emirati Arabi. Arriva tutto già fatto via nave, si commercia solo, non si produce nulla e si vive in un grattacielo di aria condizionata. Se invece andate in India, dove un miliardo e 300 milioni di persone vivono sostanzialmente all'aperto e devono lavorare in agricoltura, troverete che ci sono già imponenti situazioni di rischio collettivo che portano a migliaia di morti, come era stato per l'Europa il 2003, ma soprattutto nelle simulazioni che sono state compiute in base di scenari climatici di futuro, porteranno alla inabilità, inabitabilità complessiva di intere regioni entro i prossimi decenni, quando verranno superate queste soglie critiche che non possono essere contrastate in altri modi. Nuovamente una di quelle cose che non entra nella testa né degli economisti né dei commentatori del mondo così. Con il caldo c'è una soglia oltre la quale non si può sopravvivere. Con il freddo, se ti copri, puoi farcela, tant'è che si può sopravvivere anche in un igloo in Groenlandia o al Polo Sud con 50 gradi sotto zero. Con il troppo caldo, sopra i 45-50 gradi e umidità elevate, arrivi alla condensazione del vapore atmosferico negli alveoli polmonari. Punto. È un'altra legge. È la legge di Clausius Clapeyron. Non si può fare niente contro queste cose. Sono fatte così. Le ha fatte l'universo così circa 13,7 miliardi di anni fa. E noi, come specie, ci siamo sviluppati adattandoci a questi parametri. Se i parametri cambiano, noi non siamo più adatti. Semplicemente questo. Diventiamo una specie che non è adatta all'ambiente che abbiamo fabbricato noi. Non è un problema per la Terra. Altre specie, come diceva l'aneddoto di Leopardi, la natura andrà avanti. Forse gli scarafaggi si adatteranno benissimo a un punto di rugiada più elevato. Questo è il dato invece più elevato che abbiamo misurato in pienura padana da sempre, da quando abbiamo dati, 43 gradi il 4 agosto del 2017. Questo ha già spostato i consumi energetici nazionali e europei dell'Europa occidentale. Un tempo il picco di generazione elettrica era in inverno, in una fredda giornata di gennaio. Una sera la gente arriva a casa, si accendono le stufette elettriche, le caldaie che usano comunque una parte di elettricità e si aveva il picco di consumi energetici durante un'ondata di freddo invernale. Oggi il picco dei consumi energetici dell'Europa occidentale è in estate durante una calda giornata nella quale tutti accendono i condizionatori. Altri record dal 2013 li abbiamo toccati negli Stati Uniti e in Kuwait, 54 gradi. Se sono asciutti si sopportano, per il discorso che abbiamo fatto. Poca umidità dell'aria, evaporazione efficiente. Basta mettersi all'ombra e avere acqua da bere, perché per evaporare ci vuole anche l'acqua. Se invece l'umidità dell'aria è elevata non si sopravvive. I ghiacciai, risentendo di quel grado in più, hanno continuato ad arretrare e quindi dopo il 2013 ancora abbiamo tolto altro ghiaccio dalle nostre Alpi e in tutto il mondo. Vedete la foto del 2015 dello smembramento totale del ghiaccio di Predebar a Courmayeur, ormai arretrato di oltre 800 metri dalla fine dell'Ottocento. Vediamo che alcuni ghiacciai si sono completamente estinti, quelli più piccoli a quote medie. Questo è il ghiaccio di Teleccio nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lo confrontiamo addirittura con una incisione antica, ma molto fedele alla geografia locale. Come vedete le montagne sono ancora lì, ma il ghiaccio non c'è più. Abbiamo un ghiacciaio qui vicino, a 60 chilometri da Torino, che è un laboratorio di monitoraggio completo, il ghiacciaio Cerdonei e qui abbiamo dati numerici molto precisi. Oltre ai regressi frontali e al confronto fotografico che vi fa già vedere, in pochi anni, in quattro anni come si sia smagrito e ridotto l'apparato, i dati ci dicono che abbiamo perso quasi otto metri di spessore in cinque anni. Otto metri di spessore in cinque anni ci danno come in questo caso pura estrapolazione, non c'è bisogno di fare chissà quali scenari, è aritmetica. Se togliamo a grosso modo un metro e mezzo all'anno, per ghiacciai che hanno degli spessori di 20-40 metri, la sorte è segnata. Nel giro di qualche decennio non avremo più ghiaccio sulle Alpi intere, salvo un cappuccetto sopra il Monte Bianco e il Monte Rosa. Il nuovo catastro dei ghiacciai italiani è stato pubblicato recentemente, dopo il nostro incontro del 2013 e porta dati ancora più corretti sui 903 ghiacciai italiani che occupano oggi 370 km quadrati di superficie, abbiamo perso il 30% dal 1960 e il 60% dal 1900. Quindi vedete come si stia accelerando il processo. Altrove nel mondo abbiamo perso enormi masse di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide e questo provoca l'aumento del livello dei mari, visto che l'acqua che fonde da territori sopra il livello del mare non fa che andare in basso a incrementare il livello oceanico. Nel luglio del 2017 si è staccato un altro enorme iceberg dalla piattaforma Larsen-C in penisola Antartica. Questo direttamente non produce un aumento di livello dei mari ma genera invece la mobilizzazione di enorme masse di ghiaccio, di ghiacciai continentali, di montagna alle spalle. Cioè queste piatteforme di ghiaccio galleggiante agiscono un po' da tappo per il ghiaccio retrostante. Quando masse di questa entità si staccano il mare non cresce ancora perché già erano in galleggiamento ma tolgono massa, tolgono diga al ghiaccio retrostante che invece comincerà a scorrere dalle zone di quote montane superiori al livello del mare. Quindi apre la strada a nuovi aumenti del livello marino che già adesso sono valutabili dai satelliti con estrema precisione dell'ordine di tre millimetri all'anno, più di tre millimetri all'anno. Quindi il mare sta già aumentando e continuerà con tassi maggiori via via che il riscaldamento aumenterà. Nei cinque anni che sono trascorsi dal 2013 abbiamo circa un centimetro e mezzo di mare in più. Quando andate in vacanza in qualche località balneare camminate su un molo dove il mare è un centimetro e mezzo più vicino a voi. Apparentemente non dà molto fastidio ma lo dà quando c'è la mareggiata come quella di dieci giorni fa. Quando arrivano i venti di Scirocco a 180 chilometri all'ora quel centimetro e mezzo vuol dire avere l'acqua in salotto mentre prima forse si fermava sulla massecciata del porto. Abbiamo visto le distruzioni in Liguria dove una bella parte di costa da Genova fino alla Spezia ha avuto danni di decine di milioni di euro sia i porti, sono contento per alcuni yacht, quella è l'unica cosa che mi ha reso abbastanza felice, mentre non sono contento per gli acquedotti, per i dupuratori, per le strade che rappresentano un problema per la popolazione. Abbiamo anche la continua decrescita del ghiaccio di branchisa polare. Il Polo Nord è per noi una zona di particolare interesse climatologico ma anche una spia gravissima di quello che sta succedendo. Per le persone che vivono a Torino, a Milano, questi luoghi sono assolutamente indifferenti ma sono luoghi montani, tanto non ci abita nessuno. Peccato che nuovamente non hanno idea di che cosa sia il bilancio energetico di un pianeta. E il bilancio energetico a causa della scomparsa di una zona bianca riflettente cambia con un feedback immediato. Tolgo il bianco, non rifletto più e l'energia solare invece va in mare che è nero, scuro e al contrario accumula. L'albedo passa da 0,8 con il ghiaccio a 0,2 con il mare. Quindi vedete la enorme variazione di energia che viene catturata dal sistema terrestre anche senza aver cambiato minimamente l'entità della fonte. La sorgente è sempre quella, i raggi solari intercettati da quella zona. Ma prima venivano riflessi all'80%, oggi vengono intercettati dell'80%. E quel caldo che entra in mare attiva un feedback positivo, cioè fonde ancora più ghiaccio e poi porta alle variazioni nella circolazione generale dell'atmosfera che si riflettono fino a noi e quindi noi avremo una meteorologia e degli eventi estremi dipendenti dalle temperature dei mari artici. Quindi non è solo un problema dell'orso polare, è un problema anche nostro. Abbiamo avuto un'altra bella alluvione a Torino dopo il 2013, quella del 2016, la terza in ordine di intensità negli ultimi 200 anni. Abbiamo avuto tante altre alluvioni che non sono tutte colpa del riscaldamento globale. Attenzione perché qui ci sono anche tanti fenomeni che dipendono invece dall'uso del territorio, quindi bisogna essere anche cauti ad attribuire, ma quello che conta per noi è l'aumento di temperatura. Quello è il vero segnale inequivocabile del riscaldamento globale. Una bella siccità nel nord-ovest italiano che ha provocato l'anno scorso fino a dicembre l'alimentazione di centinaia di comuni, degli acquedotti di centinaia di piccoli comuni piemontesi con le autobotti, ma l'aveva generato prima nel Piacentino, l'aveva generato nella primavera del 2017 nel Vicentino. Quindi quasi tutto il nord Italia è stato soggetto a una colossale siccità che ha avuto dei costi sociali importanti. Pensate che l'acqua distribuita con le autobotti nelle vasche degli acquedotti costava non un euro al metro cubo, che è più o meno la tariffa che pagate tutti voi, un euro e mezzo, ma costava 18 euro al metro cubo che sono stati assorbiti dalla collettività. Finché i comuni sono pochi e le persone poche ce la possiamo fare, quando sarà una grande città che ha questi problemi come è capitato proprio a Cape Town fino a pochi mesi fa, allora le cose si fanno veramente drammatiche e i costi probabilmente non sono più assorbibili dalla società. Abbiamo avuto anche delle imponenti nevicate in inverno, ma vanno via tutte molto in fretta. Quindi anche negli inverni in cui nevica, l'aumento di temperatura provoca la fusione anticipata, entro maggio già la neve è terminata, alle medie quote, privandoci delle portate nei fiumi che poi dovrebbero servire in estate. Abbiamo avuto colossali uragani e tifoni in giro per il mondo, ve ne cito solo due, Ayan nelle Filippine per il bilancio drammatico delle vittime, 6.000 morti, e Harvey, nemmeno un uragano ma una tempesta tropicale, stazionaria. Vuol dire che è rimasto sei giorni fermo nello stesso posto, ma continuamente alimentato dall'aria umida del Golfo del Messico più caldo, mare più caldo, portando un nuovo dato di record estremo di pluviometria, 1.300 mm di pioggia in una settimana la città di Houston ha avuto danni epocali in termini di patrimonio immobiliare. Guardate quante cose sono capitate dopo il 2013, è uscito anche il quinto rapporto dell'IPCC, che ci ha detto chiaro, tutto confermato sul cambiamento climatico di origine antropogenico. Più buttiamo CO2 in atmosfera, più aumenterà la temperatura. Scenario business as usual, che è la curva rossa, 5 gradi in più a fine secolo. Scenario prudente, dove decidiamo di mettere a dieta il sistema economico, soprattutto sopprimendo i combustibili fossili, possiamo sperare di contenere in 2 gradi l'aumento. Notate che anche in questo caso il danno è già fatto, cioè il punto di non ritorno è già superato. 2 gradi non ce li leva nessuno, ma speriamo di riuscire a fare qualcosa per evitare i 5. È uscito per l'Italia un lavoro importante dei nostri colleghi del CMCC, Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici. L'Italia è un hotspot climatico il Mediterraneo, quindi 5 gradi in più mondiali significherebbero in pianura Padana e Alpi 8 gradi in più e questo aumento di temperatura in meno di un secolo corrisponderebbe, se vogliamo fare un parallelo tra la Torino di oggi e un posto del mondo che abbia oggi in estate 8 gradi in più, il Pakistan. Quindi potremmo avere come scenario una pianura Padana che si trasforma come il Pakistan, anche perché guarda un po' 8 gradi in più, ma siccità nel periodo estivo, diminuzione delle piogge. Poi ci sono le trappole. Attenzione che il sistema non è lineare, quindi quei grafici crescono in modo un po' esponenziale, ma pur sempre in modo teorico smussato. Ogni tanto ci possono essere delle grosse trappole e qui ne sono elencate parecchie. Sono in una importantissima pubblicazione recente, uscita ad agosto di quest'anno sui proceeding della National Academy of Sciences, a firma di Will Steffen e Johann Rockström, che erano già stati gli autori dei limiti planetari, insieme ad altri 14 blasonatissimi e autorevolissimi colleghi di tutto il mondo, traiettorie del sistema Terra nell'antropocene. Queste sono le cose che dovremmo mettere sulle prime pagine dei giornali. Ma qui c'è scritto veramente dove andiamo a finire? Traiettorie del sistema Terra. E cosa dicono? E dicono, uno, che abbiamo destabilizzato il sistema, due, che questo può anche accelerare se entriamo come la pallina di un flipper, in modo anche casuale perché i meccanismi sono caotici, dentro uno di questi buchi, e sono processi che potrebbero accelerare enormemente fenomeni per noi negativi. E guardate, questa è un po' una modellizzazione con un attrattore. La Terra ha degli attrattori da un punto di vista climatico, cioè un attrattore che porta al ciclo glaciale-interglaciale ogni centomila anni, e quindi entriamo in una Terra fredda quando c'è poca CO2, 180 parti per milione, e entriamo in una Terra più calda, più umite, quando c'è circa 280-300 parti per milione. E questo ha funzionato per centomila anni. Adesso noi stiamo uscendo da questo circuito, da questo ciclo, e stiamo spingendo la Terra su un sistema un po' più caldo, di circa due gradi. Uno l'abbiamo già raggiunto, infatti siamo qui. Attenti, perché rischiamo di entrare in un altro attrattore, l'attrattore della Terra calda, che non conosciamo perché non ci siamo mai stati, come specie, come specie Homo sapiens, ma che rischia di durare molti millenni. E questo genererebbe aumento di temperatura e aumento del livello dei mari come risultati macroscopici. C'è quest'altro disegno, sempre dalla stessa pubblicazione, che consiglio soprattutto agli studenti qui con noi di scaricarsi subito, quindi cercare Steffen e tali traiettorie dell'antropocene. Ed è molto bello, molto efficace, perché ci dipinge il clima terrestre come una biglia, che si muove in modo molto instabile su un crinale, tra due valli. Ogni tanto, a questa biglia, dei fenomeni esterni danno un colpetto. Per quanto riguarda le ere glaciali, il colpetto esterno arrivava da motivi astronomici. La Terra non ha un'orbita con parametri costanti e ogni tanto riceve un po' meno energia solare. Siamo caduti almeno otto volte in un milione di anni dentro la valle della glaciazione, ma vedete che è una valle poco profonda. Quindi basta poco, basta un altro colpetto in senso opposto e la biglia ritorna nell'interglacial. Se invece diamo un colpetto dalla parte della valle del mondo Serra, vediamo che una valle particolare inizia tranquilla, a piccola, a poca pendenza, ma poi c'è un burrone. C'è un burrone nel quale noi, se precipitiamo, non usciamo più. Cioè il colpetto che dovremmo dare per far tornare sulla biglia è enorme e non è più nelle nostre possibilità. Cioè noi sostanzialmente inneschiamo dei processi con leggi fisiche che dopo non siamo più in grado di dominare. Cosa possiamo fare? Dicono i nostri autori. Ormai abbiamo già fatto un primo danno. Adesso dovremmo fare uno sforzo enorme, gigantesco, definito dall'IPCC nel rapporto per gli 1,5 gradi, uno sforzo senza precedenti, per fare più in fretta possibile a riportarci in condizioni di sicurezza. Se aspettiamo ancora qualche anno, altro che il punto di non ritorno, c'è l'Apocalisse vera e propria. Nel senso che andiamo a vedere qualcosa di nuovo. Apocalisse vuol dire rivelazione. Rivelazione. Ci verrà rivelato come una terra che nella nostra specie, nella nostra evoluzione di Homo sapiens sapiens 200.000 anni, non abbiamo mai conosciuto. Per i più giovani in questa sala, io sudo freddo per voi. Spero che voi studiate ancora di più. Anzi, spero che vi caghiate sotto. Perché è l'unica cosa intelligente che potete fare adesso. Avere molta paura di questo grafico e gridare a tutto il mondo che non volete finire lì, per via delle azioni che stiamo però eseguendo oggi. Quindi bisogna fare in fretta. Perché quando, come nei film western degli anni 70, c'erano le rapide, quello lì, il cacciatore con la piroga nel fiume, comincia a vedere le creste dell'acqua che si muovono un po', e cosa fa? Si butta rapidamente attaccato a un albero sulla riva e lascia andare la barca. Perché quando sei nelle rapide, dopo c'è la cascata e ti fai molto male. E non ti puoi più fermare. Quando la velocità aumenta, non ti puoi più fermare. E c'è la legge quadratica che ci fotte anche. Tutto diventa più difficile. Più tempo si aspetta, più diventa difficile. E non è detto che ci sia un ramo per aggrapparci per tutti. Quindi, questo l'ha già detto Tartaglia prima, è un po' le continue ultime chiamate. Fate in fretta per sto grado e mezzo. O mai è perso? A mio parere il grado e mezzo è perso. Questo è un rapporto, diciamo, un atto dovuto per la storia. Rimarrà a perenne memoria e dire, avevamo capito tutto come scienza, ma non abbiamo fatto niente. Parigi è già stato detto. Troppo lento, non stiamo facendo nulla per ridurre. Più aspettiamo, più i livelli di rischio della temperatura aumentano. Se cominciamo a ridurre le emissioni fra un anno e pochi mesi, che mi sembra pura utopia, allora potremmo rimanere nei due gradi. Il grado e mezzo è già perso. Sforzo senza precedenti. È un eufemismo, dai. È un modo diplomatico per dire, dobbiamo farci un culo come una capanna a partire da stasera. Ma chi è? Ezio Mauro non ce lo scrive sulla prima pagina di Repubblica. Come facciamo a fare un piano Marshall di queste cose? Se non ci viene neanche, non gli viene neanche data l'importanza nel mondo dei media. Almeno dovremmo avere in prima pagina un urlo di dolore. Ma non ce n'è anche questo. E allora più perdi anni e più rallenti la possibilità di stare dentro queste soglie. Se aumenti ancora un po', se parti fra dieci anni al 2020, ti becchi tre gradi. Poi ti becchi quattro. Vabbè, a questo punto sei un malato terminale, non serve fare la dieta. A quel punto mangiate pure tutto quello che c'è. Che facciamo le grande feste a finale e basta. Poi succeda quello che succeda. Poi abbiamo avuto in questi cinque anni l'elezione di Trump. Quando abbiamo parlato qui nel 2013 c'era Obama che aveva aperto molto alla ricerca scientifica, ai temi ambientali. Tant'è che fu Obama a firmare il protocollo dell'accordo di Parigi nel 2015. E poi nel novembre 2016 arriva Trump che dice tutte balle, ma io non credo agli scienziati. Io penso che sia un fenomeno assolutamente naturale. Noi possiamo continuare col business as usual. E nel 2015 è arrivato anche Papa Francesco con l'enciclica Laudato Si, dove dice tutte queste cose sono vere. Io credo alla scienza, tanto più che Papa Francesco è perito chimico. Quindi la CO2 la conosce bene. Dice chiaro in questo bellissimo documento che dal problema scientifico che riconosce il degrado dell'ambiente ci deve essere una risposta etica degli individui che cominciano a risparmiare sulle risorse e avere un atteggiamento più sobrio. Abbiamo altri problemi a margine che sono esplosi finalmente. Questo invece sui giornali ci è arrivato. La plastica, la microplastica diffusa un po' ovunque che ci cominciamo a mangiare come fenomeno boomerang nel nostro piatto. Mangiamo pesce, mangiamo organismi che nella catena trofica hanno ormai inglobato composti chimici tossici che a lungo termine potranno generare una intossicazione generale dell'umanità. Questo è il processo per cui la plastica che non è per alimenti la buttiamo via, quando arriva negli oceani si degrada per il moto ondoso e la radiazione UV si frammenta e entra in catena alimentare. Insomma, decendi di ricerche, milioni ormai di studi, non migliaia, migliaia in questi cinque anni, ma ormai milioni di studi di sapere accumulato in oltre un secolo sui problemi ambientali, io la chiamo la scienza sprecata. Tutto quello che noi facciamo nelle aule di prestigiosi scuole e università come questa finisce in un cassetto, non diventa patrimonio della società per fare le giuste scelte e per evitare il burrone. E quindi una piccolissima parte dell'umanità conosce queste cose e gli altri addirittura la rifiutano, pur avendo dei mezzi eccellenti oggi per comunicare, perché nel telefonino che tutti voi avete in tasca tutte queste informazioni sono immediatamente reperibili, non è mai capitato prima nella storia dell'umanità, ma come diceva Arthur Clarke, autore di 2001 Odissea nello spazio, scritta nel 1969, ben prima dell'invenzione dei telefonini e di internet, scrisse, quanto più i mezzi di comunicazione progredivano, tanto più essi venivano utilizzati per trasmettere stronzate. Ed è così, il mio telefonino ogni tanto si accende da solo e mi propone dei gadget informatici, sono dei videogiochi che io cancello immediatamente. Ma pensate se questo mezzo fosse usato ogni giorno per trasferirmi i dati sull'incremento di CO2, quanti ettari di foresta abbiamo abbattuto, quante tonnellate di plastica abbiamo buttato nell'oceano, almeno sarebbe un cruscotto dell'andamento del pianeta. Forse è un po' più utile che darmi un videogioco. Le cose che dobbiamo fare le sappiamo ma non le vogliamo fare perché sono altamente impopolari. Questo lavoro, uscito anche questo dopo il nostro convegno da parte di ricercatori dell'università di Lund in Svezia, ci dice che in sostanza i politici continuano a fare piccoli atti decorativi di sostenibilità, mentre le grandi scelte impopolari non vengono proposte. I piccoli atti decorativi sono chiudere il rubinetto quando ti lavi i denti, fare la raccolta differenziata, delle cose politicamente corrette che già in pochi fanno, ma che non risolvono i problemi. Dobbiamo risolverli sui grandi numeri delle emissioni, che sono fare un figlio in meno. Accidenti, qui entriamo nel tabù delle religioni, dei comportamenti della società, nemmeno i demografi hanno il coraggio di dire le cose come stanno. Continuano a dire, ah ma il tasso di natalità è un po' in discesa. Sì, ma è il capitale che conta. Se il capitale è grosso, anche se scende un po' il tasso di interesse, i numeri sono sempre giganteschi, 400 milioni di persone in cinque anni. Il mio demografo dov'è? Deve dirmi, sì, è vero, anche se i tassi di natalità sono in leggera diminuzione, purtroppo saremmo 10 miliardi alla fine di questo secolo, forse più. Siamo 9 miliardi e 600 milioni attesi al 2050, che non possono far altro che peggiorare tutti i parametri che abbiamo visto prima. Dovremmo non avere l'automobile, o se averla, averla elettrica. E se averla elettrica, a caricarla solo con i pannelli fotovoltaici. Dovremmo evitare i viaggi aerei, tutti. E invece, ah sì, io sono ambientalista, ho messo i pannelli solari sul tetto, però le vacanze le vado a fare alle Maldive e adesso per Natale vado a vedere le vetrine a New York. Mi spiace, quella non è sostenibilità, altro che voli low cost, very high cost in termini di esternalità negative. Tutte le cose che dobbiamo fare le conosciamo, ma qui c'è Enrico Giovanieri arrivato adesso e quindi ce ne parlerà lui dopo come obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite che si possono declinare nelle varie nazioni. Io voglio solo ricordarvi nuovamente il ribaltamento del punto di vista. Oggi l'economia è uberalless, quello che conta è solo il PIL, lo spread, i soldi, economia. E invece sono stati gerarchizzati gli obiettivi delle Nazioni Unite per la sostenibilità, proprio sempre dal solito Johann Rockström e colleghi. Gerarchizzandoli ci accorgiamo che la torta è la biosfera, quindi i processi che salvaguardano il clima e la biodiversità. L'economia è solo la ciliegina, se non c'è la torta la ciliegina serve a niente. Quindi cerchiamo di ribaltare il nostro punto di vista, prima l'ambiente, poi l'economia che è una sovrastruttura di relazioni tra gli uomini. I 50 anni del Club di Roma un mese fa, vedete, non se ne è sostanzialmente parlato. Anche lì Ezio Mauro, lo avete visto? Io non sono potuto venire a Roma. Ugo c'era Ezio Mauro in prima fila? Ha fatto delle domande? Aveva la barba finta, era il mister Haid. Abbiamo anche autorevoli voci che si spendono per allertarci su questo drammatica momento della storia dell'umanità. Questo è Antonio Guterres, è il segretario generale delle Nazioni Unite, una delle persone che ha un ruolo tra i più autorevoli del pianeta. Tra l'altro è un ingegnere elettrotecnico, quindi insomma una volta tanto abbiamo anche una persona che ci sa fare con i dati scientifici. Guardate che parole preoccupanti e estremamente incisive. Ci dice che il cambiamento climatico è uno dei temi fondamentali di rimenti del nostro futuro, ma ci dice anche che il cambiamento climatico si sta evolvendo più rapidamente di noi e peggio in due righe e mezza che ci starebbero in un titolo della stampa e di Repubblica invece di inneggiare la crescita. Qua c'è scritto che se non cambiamo entro il 2020 il nostro modo di comportarci rischiamo di perdere quel punto molto ormai delicato, il burrone delle traiettorie dell'antropocene che impedirebbe il cambiamento climatico irreversibile, con conseguenze disastrose per le persone e per tutti i sistemi naturali che ci sostengono. Parole pesanti come macigni. Ragazzi, voi più giovani che siete qui, dove siete di fronte a una dichiarazione di questo genere di una persona così autorevole? Ma non si può stare zitti, rischiamo grosso, rischiate soprattutto voi. E quindi la domanda che ci facciamo noi tutti oggi è siamo ancora in tempo? Sicuramente siamo ancora in tempo per ridurre il danno, ma l'inerzia di tutti gli anni che abbiamo perduto prima, compresi i cinque che ci separano dallo scorso convegno nei quali nulla è passato, ci condanna purtroppo ad avere ogni giorno un po' più di danno irreversibile. Un attivista ambientalista finlandese, all'uscita del rapporto sul grado e mezzo dell'IPCC un mese fa, ha tradotto il rapporto fatto di numeri, di grafici. Angelo Tartaglia prima continuava un po' a scusarsi che portava delle piccoli esempi con delle leggi fisiche molto semplici, che riteneva addirittura banali. Angelo, certo tu l'hai fatto perché giustamente siamo nell'aula del Politecnico di Torino, ma se andiamo fuori da qui in strada, il 99% della popolazione italiana, quantomeno, ha difficoltà a leggere un diagramma cartesiano. Quindi figurati comprendere la legge di Ohm. Siamo completamente sprovvisti di mezzi culturali per affrontare questo problema. Infatti la nostra Kaisa Kosonen ha tradotto tutto in questa piccola frase molto più comprensibile. Agite subito, stupidi. Qui trovate i dati successivi perché ho già esaurito il mio tempo. Grazie per l'attenzione.